Per aver accettato di correre in questa sfida e soprattutto l'augurio, se chi parteciperà alle primarie deciderà che lui sarà il nostro candidato sindaco, l'augurio di poter poi fare una buona campagna elettorale mettendo al centro della discussione non le divisioni ma i problemi e le speranze della comunità che ti ha affidata e poi di poter essere, se sarai sindaco, l'interprete di questa comunità. Fare il sindaco significa sicuramente fare tante cose, realizzare le infrastrutture di cui una città ha bisogno fare le scelte amministrative più corrette, avere un'attenzione oculata alla gestione delle risorse realizzare servizi ma è anche, io credo soprattutto, definire giorno per giorno la tua comunità renderla, cementarla nella consapevolezza.